AgroSmart è il nuovo modulo di Analyst Cloud 2020 dedicato all'agricoltura di precisione che permette di vedere e analizzare i dati dell'indice NDVI in tempo reale, anche negli scenari in cui non è possibile acquisire i dati multispettrali con il drone, ad esempio le serre. AgroSmart, partendo dal video del rilievo multispettrale, crea l'istogramma con i filari rilevati ed analizza i flussi per verificare lo stato di salute delle colture.